Tre anni e 35 chilometri dopo, ancora loro, ancora in copertina, pronti a far sognare una piazza e a lottare per un campionato di vertice. Storia di Vito Morra, Nicola Sdirito e Nicola Loiodice. Nell'annata 2016-2017 ci furono anche le loro firme a trascinare in serie D l'audace Cerignola dei Record per la terza promozione consecutiva, quella dell'eccellenza, la prima serie del calcio dilettantistico. Alle porte di ingresso dell'annata 2020-2021 ci sono i loro volti e i loro numeri, guidati dalla panchina da quel Francesco Farina che allenava il club giallo-blu tre stagioni fa e sa bene come farli coesistere in campo. Un onore e un onere alimentati anche dalla presenza inorganico di un esterno di altissimo livello per la categoria come Alfredo Varsi, confermato in bianco-rosso dopo il ritorno a Barletta nello scorso dicembre. In cima alla lista dei nomi richiesti dall'allenatore Campano al suo arrivo nella città della disfida c'erano i loro tre nomi. Troppo fresco il ricordo vincente dell'esperienza condivisa al Monterisi con un tridente in grado di mettere insieme 45 reti complessive, 17 Dirito, 14 a testa per Morra e Loiodice, per non pensare all'usato sicuro, per dare un messaggio al campionato. Di quel quadrimestre trascorso insieme, Dirito e Loiodice arrivarono infatti a Cerignola nel corso della sessione invernale di mercato, lasciando a stagione in corso proprio il Barletta. Restano i numeri e il traguardo tagliato insieme. Le credenziali e i nastri di partenza della nuova stagione sono di quasi 350 reti complessive, 224 del solo Dirito, segnate in tre. Tanta esperienza e attitudine alla vittoria. Morra l'ha celebrata anche a Molfetta con il salto dall'eccellenza alla D, Dirito l'ha inseguita con il Corato 2019-2020. Loiodice ha coltivato i suoi appetiti di successo negli ultimi due anni e mezzo in Serie D, ancora con il Cerignola, segnando 25 reti e fornendo 18 assist vincenti. Ora si ritrovano tutti e tre in bianco rosso pronti a esibire i muscoli al campionato. Se la difesa è il miglior attacco, avere un attacco tra i più forti di certo spaventa le difese avversarie.